Adesso vinco io, è il film dedicato a Marcello Lippi che da lunedì a mercoledì uscirà nelle sale italiane. Buongiorno Marcello. Buongiorno. Iniziamo da questo. Che messaggio c'è intrinseco al titolo? Adesso vinco io. Il titolo non l'ho fatto io, l'ho fatto qualcun altro. Probabilmente chi l'ha fatto si è riferito un po' alle frequenti vittorie che ci sono state nella mia carriera. Come ho sempre detto, non grazie a me ma grazie alla bravura dei calciatori che ho avuto la fortuna di allenare. E quando vinci tanto è venuto naturale questo titolo. Comunque meritatissimo e assolutamente appropriato alla tua carriera, al tuo carisma. È un palmarès straordinario. Siamo su un campo da calcio, siamo al Marco Polo Sports Center di Viareggio. Che effetto ti fa stare sull'erba verde? È molto bello perché è una struttura che abbiamo costruito con tre amici. Abbiamo fatto una società, abbiamo fatto questo centro sportivo nel quale si è impegnato mio figlio. E abbiamo fatto, la prima cosa che abbiamo fatto è un campo da calcio. È un sintetico di ultima generazione, è molto bello. Ricordavo prima che quando giocavo da ragazzo io, se cadevi per terra ti facevi dei tranci, dei tagli. Invece qui puoi cadere e non ti fai niente. Allora, a proposito di Marcello Lippi, calciatore, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Allora, hai giocato nel Savone. La Sampdoria è stata la tua squadra più importante. Ho letto 274 partite con la maglia d'Oriana e cinque gol. Poi Pistoiese, Lucchese, però Sampdoria. Ma che calciatore era Marcello Lippi? Marcello Lippi era un ragazzo, innanzitutto un ragazzo al quale piaceva tantissimo il calcio. Giocavo sempre a pallone, a scuola andavo malissimo, ero sempre a giocare a pallone. Con gli amici andavamo sempre a giocare a pallone ed era abbastanza bravo a giocare a pallone. Ero portato all'attacco io come giocatore. Ero sempre all'attacco, andavo a tirare, facevo gol. E poi dopo quando ho cominciato a giocare in una squadra, ho cominciato a giocare in varie squadre di settore giovanile, giocavo sempre all'attacco. Poi dopo quando ho cominciato a giocare in categorie superiori, in C per esempio, mi hanno messo a fare il difensore centrale perché ero forze di testa, cominciavo bene l'azione ed era un po' lento come giocatore, allora si adattava alle caratteristiche dei difensori. Allora, un allenatore che sicuramente ha condizionato la tua carriera è stato il grande Fulvio Bernardini. La capacità di imporre la sua personalità senza annullare quella degli altri. È stata anche la tua filosofia comportamentale in panchina? È stata la mia filosofia, ma non è facile avere queste caratteristiche. Però la filosofia era quella, ed era quella che mi ha trasmesso lui, una persona fantastica, capacità di imporre la propria filosofia senza annullare quella degli altri. Non è semplice. No, è tutt'altro che semplice. Dopo poi ricordiamo i riconoscimenti che hai avuto praticamente in Italia e nel mondo, tutti quanti. Ma che allenatore era Marcello Lippi? Duro, buono, amico dei giocatori, penero? È semplice, è semplice. Io sono stato un allenatore che ho sempre cercato di instaurare un rapporto semplice con i miei giocatori. Ho cercato sempre di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, perché è soltanto così che si riesce a ottenere dei buoni risultati. Avere giocatori bravi è l'allenatore che ne sfrutta le caratteristiche. Diciamo, avete capito, ragionare è semplice, perché detta così tra l'altro sembra molto più facile di quello che poi è nella pratica realizzativa. Hai avuto una carriera straordinaria, sicuramente l'esperienza più significativa è stata quella alla Juventus, dove sei stato in due cicli, il 94-99, 2001-2004, cinque scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe, una Champions League, un Intercontinentale, una Supercoppa UEFA. Quanto c'è di Marcello Lippi e quanto dei tuoi giocatori? Perché tu hai già riconosciuto che senza i grandi campioni le vittorie non arrivano. È la verità, è la verità, è la verità. Diciamo che ognuno di noi ci ha messo del suo, un pochino ce l'ho messo anch'io. Assolutamente sì. A proposito di Juventus, scusa, Allegri ti ha appena superato per quanto riguarda il numero di panchine bianco-nere. Allora, Trappattoni è là, 5-9-6, poi tu sei a 4-0-5, da secondo a terza posizione. Che sensazione è stata? Lì dipende molto dall'età. Lui è molto più giovane di me, perciò sono contento perché Max è un allenatore intanto molto bravo, una persona di grande serietà, di grande simpatia. Sono molto amico con lui. Mi dici due parole, quello che vuoi sulla Juve di oggi. C'è differenza tra la tua Juve di allora e quella di oggi e di là di risultati? Quella di oggi si sta cercando di ricostruire una sua dimensione di grande livello. Piano piano ci riuscirà perché la Juve ha sempre fatto questi cicli di grande importanza e adesso è sulla strada per poterne fare un altro. Però ci vuole del tempo. Sei il primo allenatore che nella storia del calcio ha vinto le tre massime competizioni. Mondiale Champions League nel 1996 e l'Intercontinentale nel 1996. Poi dopo c'è stato anche Vicente Del Bosque. È una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione, ma sono tante le cose che mi hanno dato soddisfazione. Tre finali di Champions League consecutive. Io batto sempre su questo tasto qua. Vuol dire che la disposizione dei grandi calciatori è la soddisfazione quella di farli rendere al massimo. È una curiosità personale, Marcello. Mi sono fatto la domanda tante volte, non solo nel calcio, ma anche nel calcio, particolarmente nel calcio. Perché le superstar faticano a diventare grandi allenatori? In epoca recente Carletto Ancelotti è stato un grande campione ed è un allenatore straordinario. Ma tutti gli altri hanno faticato le superstar a diventare grandi allenatori. Forse Zidane ha fatto qualcosa di altissimo livello. Zidane perché è una persona intelligente. Dipende molto da quello, dall'intelligenza della persona che si deve rendere conto che se è stato grande deve cercare di ottenere dai propri giocatori le stesse cose che lui sa che ha messo in campo per ottenere dei risultati. E tante volte non succede questo. Andiamo in Cina. Ad un certo punto, dopo il mondiale, ti chiamano al Guangzhou. Tu sapevi dove era? Guangzhou, sì. Sapevi dove era? Non lo sapevo, però sapevo che era una delle squadre maggiori cinesi. Sono andato a fare questa esperienza. Ho già ammesso candidamente che ci sono andato perché mi hanno fatto un'offerta economica che non si poteva rifiutare. E sono andato, abbiamo vinto tre scudetti consecutivi, abbiamo vinto la Champions Asiatica e poi mi hanno offerto la Nazionale Cinesi e sono andato ad allenare anche la Nazionale Cinesi. È stata una bellissima esperienza. Ti vorrei far salutare almeno in cinese, te lo ricordi? No, mi ricordo, no, neanche una parola. È difficile, eh? È impossibile, è impossibile ricordarsi in cinese. È difficile. C'è più rigore là? No, no, non è una questione di rigore, è una questione di conoscenze tue. È più facile per me parlare con dei giocatori che parlano la mia stessa lingua. Che no, parlare ad una persona, spiegare che lui deve spiegare agli altri quello che io gli ho detto. 2006, un anno indimenticabile nella tua carriera, nella tua vita e per l'Italia non solo calcistica. Una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto io nella mia vita, ho sempre detto che le più grandi soddisfazioni che ho avuto sono state la mia famiglia e la Coppa del Mondo del 2006. Allora, ti ho visto da Fabio Fazio, a che tempo che fa, e ti ha fatto ricordare come hai festeggiato in maniera, devo dire, abbastanza singolare la vittoria. Ma era un'abitudine mia. Cioè, cosa hai fatto? Ho fatto niente. Perché se fossi stato libero, che fossi stato a casa, sicuramente sarei andato con gli amici a cena, eccetera, eccetera. Ma siccome ero in ritiro, ancora in ritiro con la squadra, me ne sono stato in camera mia dopo cena, mi sono acceso un bel sigaro, così non disturbavo nessuno e me lo sono fumato in camera mia, tranquillo e sereno. Un po' originale, devo dire, per festeggiare una vittoria così importante. A me piace molto entrare nell'intimo delle persone e capire cosa provano in certi momenti, i campioni che vivono delle sensazioni uniche. Prima dei rigori con la Francia, cosa c'era nella tua testa, Marcello? C'era quella di, non dico la convenzione perché sarei presuntuoso, però c'era questa grande voglia che arrivasse presto questa conclusione perché ero sicuro che avremmo vinto. E da cosa ti derivava la sicurezza? Dalla fiducia che avevo nei miei giocatori e che ho sempre cercato di trasmettere. Cosa molto, molto importante. Oggi ci sono delle perle di saggezza di Marcello Lippi, perché se ci pensate a volte sembrano cose scontate, ma non lo sono, assolutamente. Allora, sei stato inserito nel 2007 nella lista dei 50 migliori allenatori della storia nella classifica del Times. E poi nel 2011 sei entrato nella Hall of Fame italiana, nel 2013 ESPN, la famosa televisione americana, ti ha inserito nella classifica dei 20 più grandi allenatori della storia. Allora, sono sincero, questa qui della ESPN, dei 20 non la sapevo, sapevo quelle altre due che hai detto. Non si è mai finito di imparare, Marcello? Questa qui è tanta roba, sì, è vero. Tanta roba, mi dà grande soddisfazione. Eh, ma sta a suggellare la bontà del lavoro, la credibilità anche della persona, anche Marcello, non solo del allenatore. Non devo essere io a dirgli queste cose qua. Eh, però sono gli altri che l'hanno giudicato, persone che ti hanno giudicato in maniera molto importante, cioè prima avevi stato eletto allenatore dell'anno dall'UEFA, insomma, di riconoscimenti. Mi fa molto piacere, ogni volta che arrivano questi apprezzamenti sono molto soddisfatto. Allora, siamo a Viareggio, il mare non c'è, ma si sente un po' il profumo che arriva. So che hai un rapporto particolare con le onde, con il rollio, con la pesca. È la cosa più bella che ci sia, il mare. Io sono felice di essere cresciuto, nato, vissuto e cresciuto in una città di mare. Appena arriva la bella stagione io sono sul mare, abito davanti al mare e perciò per me il mare è la cosa più bella che ci sia. Mi fa molto piacere il fatto che tu spontaneamente parli del valore della tua famiglia e lo faccio continuamente. Eh, perché è la verità, sono convinto di questo, che sia la cosa più importante, più bella che ci sia la famiglia. Hai parlato delle vittorie che hai ottenuto a livello internazionale. L'anno scorso tre squadre italiane sono andate nelle finali delle tre coppe, vale a dire la Fiorentina, la Roma e l'Inter. Quando si torna a vincere la Champions, Marcello, per una squadra italiana? Eh, questa è una domanda da un milione di dollari, questa qua, non lo so, non lo so. L'Inter quest'anno dà l'impressione di essere molto forte e adesso vediamo però a livello internazionale che cosa sarà capace di fare. E Marcello, cos'è stato il calcio nella tua vita? Ti do una risposta di una banalità impressionante, tutto. Io ho fatto tutto in funzione del calcio, come ti ho detto prima, non andavo mai a scuola, andavo sempre a giocare a calcio. Ho cominciato a giocare a calcio a livello professionale, è stata la mia fortuna, ho costruito il mio futuro con il calcio, tutto è stato il calcio. C'è un momento che ha svoltato la tua vita, non solo la tua carriera. È successo quello forse quando ti ha chiamato la Juventus? Vabbè, quando mi ha chiamato la Juventus sì, però tu hai parlato della mia vita, non della mia vita calcistica. Corretto, bravo, corretto. Diciamo che quando ho costruito la mia famiglia è stato il momento più importante. Chiudo con questo, ma è vero quello che hai detto, cioè quando sei andato alla Juventus sei andato a parlare con tuo papà? È vero, è vero. Mio padre non amava molto la Juventus perché era un po' contro, no? E io sono andato da lui e gli ho detto abbi pazienza ma io vado alla Juventus, non ci rimanere male ma io vado alla Juventus. Mio padre era al cimitero. Era al cimitero, non hai avuto un dialogo, è stato un monologo. Era in una tomba mio padre perché era morto da qualche anno. Allora, adesso vinco io, lunedì sera, c'è la prima a Roma, al Cinema Moderno. Sono molto contento che vivrai anche questo momento, Marcello. Prima della proiezione ci sarà un riconoscimento da parte della Lega Serie A che ti verrà dato. Non ti anticipo nulla perché deve essere una sorpresa per te. Sono sicuro che ti farà piacere e te lo meriti. Grazie. Marcello Lippi, grazie davvero. Grazie a voi. Per le meravigliose emozioni che ci hai regalato oggi ma nella tua fantastica carriera. Sei stato un esempio anche dal punto di vista comportamentale, non solo per il mondo del calcio ma per il mondo dello sport.